ciao a tutti mi sto facendo prendere un po la mano nello smontare le cose tante volte però smontarle vuol dire buttarle via perché come era già successo nel video degli x20 io quella macchina lì poi me la sono presa intercooler perché scollegando le parti così alimentate giustamente si è danneggiata e non si accendeva più allora però della roba che sto raccimolando quel negozio guasta che è un'ottima occasione per smontarla e farvi vedere come è fatto dentro ad esempio oggi vi farò vedere come è fatta la power stream che molti di voi hanno a casa che ho avuto anch'io che abbiamo recensito in un video approfondito molto vediamo come è fatto dentro questo mattoncino che pesa un bel po e capirete perché pesa così tanto ma prima di andare avanti mi raccomando che non costa nulla per voi su un click per me è un grosso aiuto per far crescere il canale ora andiamo avanti proviamo a vedere se riusciamo ad aprire il power stream allora eccola qui la nostra power stream è un bel mattoncino è bella solida tra l'altro solo lei pesa più di 2 chili mi va addirittura in errore la bilancia tutto il lato liscio non abbiamo incastri apertura eccetera ma abbiamo una vite a vista qua e sicuramente ce ne saranno altre credo qua sotto eccole qua una due tre quattro poi quando a terra secondo me potrebbe esserci neanche una qua perché vedo un tappino molle vediamo un po no non è una vite non so cosa sia lo vedremo dopo qui sotto non sembrerebbe allora iniziamo a togliere quelle sono delle torse serve una t10 ok tutte uguali ora vediamo se si apre andiamo facendo leva qua sul bordino sembra bella dura allora fa molta resistenza in mezzo fa molta resistenza all'apertura semplicemente perché è sigillata quindi c'è una specie di silicone che incolla il tutto ok porca miseria che sorpresa allora dentro abbiamo trovato tutta questa specie di sigillante appiccicaticcio che secondo me se vogliamo capirci qualcosa dovremmo toglierlo mamma mia che roba brutta tutta questa roba qua che serve chiaramente per l'umidità la devo togliere tutta quindi con buona volontà pezzo per pezzo cercherò di tirare via tutto quello che posso dopo aver tolto un buon chilo di questa che cos'è questa è una resina siliconica che viene iniettata da dove dal foro che abbiamo visto sul fondo perché vedete che adesso qua sotto c'è il dito ecco quel foro lì e da dove hanno iniettato tutto questo sigillante che per carità va benissimo per un discorso di tenuta dell'umidità e tutto ma di fatto va anche a creare una diciamo un'ermeticità talmente tale talmente densa tra i vari componenti che anche dissipare il calore diventa più problematico cosa vi posso far vedere una volta scoperto il tutto allora da questo lato del layout mi interessava più che altro scoprire grossolanamente tutti i componenti e vi dico che in alcuni punti questa resina siliconica era ancora quasi liquida perché chiaramente non entrando aria essendoci tutta questa sigillatura con questo ring sul coperchio fa anche fatica ad asciugare ho tolto il grosso quello che potevo nel mentre è saltata anche qualche resistenza eccetera allora questa che l'antenna wifi in effetti con questo filo era attaccata lì sulla piastra dove c'è il modulo wifi e raschiando via il sigillante ho rotto anche il filo questo che è il connettore della parte in dc va direttamente sullo stampato questo che è il connettore dell'espansione questo che è la parte in ac passa direttamente attraverso un sistema di filtraggio dei relais il resto sono tutti trasformatori condensatori molti molti filtri messi ovunque due batterie tampone che serviranno per memorizzare qualcosa un'altra rete di tre condensatori qui ben isolati oltre che dalla resina anche da un circuito vedete qua c'è proprio un isolamento tra la parte in 230 che è determinato da quel simbolo sulla piastra ok indica che lì c'è un isolamento un altro condensatore bello ciccione e una volta arrivati a questo punto dove intravediamo le viti vediamo se riesco a dividere la piastra dallo chassis per vedere anche la parte dietro ci sono delle sigle però da nessuna parte ho visto un logo eco flow ci sono tutte le serigrafie dei componenti degli ingressi qua del modulo bluetooth che però sembra non montato vedete che c'è una piazzola vuota e tutto tranne che il marchio eco flow da qualche parte lì c'è un simbolo cinese che non so cosa sia però magari non è neanche prodotta da loro adesso provo a svitare le viti e vedere se riesco a dividerla dalla parte dietro allora se siamo riusciti a togliere tutte le viti adesso forse dovremmo riuscire a estrarre la piastra dallo chassis intanto bisogna togliere la guarnizione perché va a prendere anche tutti i connettori ed è una bella guarnizione la vedo molto dura senza distruggerla ma ci proviamo diciamo che facendo leva già qui sui connettori forse riusciamo un po a smuoverla vediamo come procedere sì forse abbiamo spazio per far entrare due cacciaviti per fare leva lì poi anche qui possiamo esagerare fatto qui andiamo avanti a fare leva anche di qua insistiamo ok dovremmo essere riusciti e voilà quindi tutta l'altra resina schifido rimane lì qui dietro abbiamo il resto della piastra con tutta la parte dei circuiti integrati vediamo l'isolamento della parte in alta tensione da quella in bassa tensione molto probabilmente sì praticamente tutta questa zona fa parte del lato ac qui abbiamo la contatteria del pv1 e del pv2 vedete che è anche segnata sulla piastra qui abbiamo batteria più batteria meno tutte le varie piste che passano dentro lo stampato tutto tutta la componentistica qui ci sono i led e null'altro una volta aperto il tutto anche di qua vedete che la resina attraverso questo foro questo qua è passata per riempire anche sul fondo vedete che va a prendere praticamente tutto riusciamo anche quasi questa a toglierla in un pezzo unico cosa che non siamo riusciti a fare con quella perché si insediava troppo tra i componenti invece questa riusciamo a toglierla ecco qua un altro bel pezzo quindi lì è rimasta quasi tutta la resina questo è il fondo del nostro power stream abbiamo visto più o meno come è fatta l'elettronica che comunque sembra curata ma né davanti e né dietro riesco a trovare una scritta eco flow da qualche parte rimaniamo col dubbio di di chi lo produca questo è tutto no perché vorrei anche capire quanto pesa tutta quella schifezza allora col coperchio 1173 coperchio che pesa 300 quindi 1173 ci sono 873 più tutto quello che è rimasto in giro ci sono praticamente 9 etti di resina siliconica iniettata dentro per proteggere tutta la parte elettronica e garantire sicuramente la tenuta stagna ma oltre alla tenuta stagna serve anche a tenere fermi i componenti infatti vedete che non ci sono punti di resina per tenerli fermi perché tanto riempendola iniettando completamente riempiendo tutti i buchi oltre a garantire la tenuta assoluta all'acqua riusciamo a tenere fermi anche i componenti avete visto come è fatta dentro la vostra power stream ok l'ho richiusa giusto per magari metterla qua come soprammobile è un bene un male che sia stata riempita con questa iniezione di resina sicuramente un bene avranno fatto le loro valutazioni però a parte il peso che ce ne può fregare relativamente secondo me non aiuta nella dissipazione del calore non ho visto dentro parti di contatto per i componenti che devono dissipare non ho visto dei dissipatori di radiatori insomma sappiamo che questo prodotto ha avuto dei problemi di surriscaldamento infatti hanno poi inventato il kit di raffreddamento che se non avete vi consiglio di prendere perché questa roba qua diventa rovente tanti sono riusciti a fare dei begli impiantini un bel prodotto funziona bene era da migliorare l'hanno fatto in un secondo momento vi costringono a comprare un accessorio però è tutto di guadagnato per allungargli la vita questo è tutto abbiamo visto anche come è fatta dentro il power stream state in campana un bel like mi raccomando che non costa nulla noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta se passate di qua c'è sempre un ottimo caffè che vi aspetta e magari riesco a farvi vedere qualche cadavere in tempo reale grazie a tutti ciao da massidattoli